L'evento di martedì 10 ottobre verte su argomenti legati essenzialmente alla centralità dell'industria. Gli ospiti d'onore sono Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e il nostro vescovo Giulio Brambilla. Gli argomenti essenzialmente sono due. Primo, rivalutare quella che è la posizione effettiva di tutte le imprese, quali essi siano micro o macro imprese, medie imprese, per analizzare quello che effettivamente fanno sul nostro territorio e come contribuiscono al PIL, al prodotto interno del nostro territorio. Imprese, intendo anche le imprese alberghiere, che sono trasformatrici, come le altre imprese manufatturiere, e tutti quegli altri che seguono anche il turismo, chiamiamola cielo aperto, che è i campeggi, e rappresentano effettivamente una grossa fetta per quanto concerne la presenza di clientela e quindi di popolazioni italiane e soprattutto straniere. Quindi dopo anni molto difficili si comincia a riguardare con ottimismo al futuro? Beh, l'ottimismo deve essere per forza prevalente, altrimenti non possiamo partire con progetti energici, veri, sinceri, se non abbiamo un po' di fiducia nelle nostre capacità e di tutte quelle che sono le potenzialità delle persone che coinvolgono il nostro e rappresentano il nostro territorio. Speriamo, insomma, ormai siamo troppo legati a quello che è l'evolvere della globalizzazione, quindi siamo coinvolti, ma noi ci prepariamo e vogliamo fare in modo di percepire da parte di tutti gli altri e quindi anche di trasferire quello che sono gli elementi importanti per vincere una possibilità di vita e di continuità Grazie. 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 Grazie.